Alle prime ore del mattino a Milano e Saluzzo, i carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia catolare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della locale direzione distretto all'antimafia, a carico del primo genito di Di Lauro Paolo, alias Ciruzzo Milionario, Di Lauro Cosimo, classe 73, reggente del clan di Lauro durante la prima faida di Scampia e Todisco Nicola, alias Ninnone, classe 82, ritenuto anche gli elementi di spicco del medesimo sodalizio criminale. I due già detenuti per altra causa sono gravamente indiziati dei reati di omicidio volontario aggravato per aver agito con premeditazione e detenzione porto abusivo di armi, aggravati dal metodo e dalla finalità mafiose. Il provvedimento scaturisce dagli accertamenti svolti dal nucleo investigativo di Castello di Cisterna, sotto il coordinamento della DDA di Napoli e dalle concordanti dichiarazioni di plurimi collaboratori di giustizia, in merito alle responsabilità in capo al Di Lauro e al Todisco, rispettivamente quali mandante ed esecutore materiale dell'omicidio di De Felice Massimiliano, legato da rapporti di parentela con le famiglie Abbinante e Notturno, all'epoca al vertice della contrapposta alleanza scissionista. Avvenuto a Napoli, nel quartiere Scampia, il 28 novembre 2004, periodo in cui era in atto appunto la prima faida di Scampia, guerra senza quartiere, protattasi dall'ottobre 2004 all'aprile 2005, che ha ammiettuto numerose vittime, quasi tutte tra congiunti dei principali esponenti criminali e spesso del tutto estranei a contesti camorristici, secondo una strategia di tipo terroristico messa in atto dai killer. Infatti il contesto criminale dell'omicidio di De Felice, avvenuto nelle fasi iniziali della prima faida di Scampia, esplose in un momento storico in cui era in atto un riequilibrio dei rapporti di forza e delle relazioni tra i clan napoletani, fu sostanzialmente una prima risposta al duplice omicidio di Montanino Fulvio e Salerno Claudio, uomini di estrema fiducia di Cosimo Di Lauro, verificatosi esattamente un mese prima rispetto a quello del De Felice, ovvero il 28 ottobre 2004, e che di fatto aveva segnato l'inizio della contrapposizione tra i scissionisti, composti dai clan Abete Notturno, Abbinante, Marino, Amato Pagano e il clan Di Lauro. Le attività investigative hanno permesso di ricostruire la dinamica dell'omicidio, nonché di accertare che la vittima era stata attinta al capo e all'ottorace da molteplici colpi di arma da fuoco e che Di Lauro Cosimo aveva richiesto al gruppo Prestieri, quest'ultimo all'epoca articolazione dei Di Lauro, dislocato e operante nelle aree cosiddette osi del Buon Pastore e Sette Pazzi del quartiere Scampie di Napoli, l'esecuzione di un omicidio ai danni della contrapposta alleanza scissionista. L'esecutore materiale dell'omicidio, Dodisco Nicola, che poteva contare in un rapporto di conoscenza reciproca con la vittima, era ritenuto da quest'ultimo un insospettabile, quindi elemento all'epoca di basso spessore criminale, fattore quest'ultimo che non aveva ingenerato alcun sospetto nello sventurato De Felice. Infatti a confermare tale circostanza, le dichiarazioni di molteplici collaboratori di giustizia hanno permesso di stabilire che Dodisco Nicola, nell'avvicinare l'ignaro malcapitato, con la scusa di avvisarlo circa la presenza delle forze dell'ordine nei paraggi, lo aveva anche salutato per poi esplodere gli contro, subito dopo, numerosi colpi di arma da fuoco.